In questo momento gli studenti di Carbonia Cinema Giovani e gli studenti in generale della nostra città, almeno degli istituti superiori che siamo riusciti a coinvolgere, stanno incontrando Suranga Katungampala, nativo dello Sri Lanka, però vive in Italia da tanti anni, un giovane, perché in fondo ha solo 32 anni, membro della giuria del primo concorso Sguardi Plurali sull'Italia Plurale. Già autore di un film, lui sta lavorando sul suo secondo lungometraggio, gli studenti oggi hanno avuto la possibilità di incontrarlo e di vedere per un figlio una bella storia familiare anche di crescita, di emancipazione, di conflitto tra una madre che naturalmente è ancorata alle proprie origini e ha difficoltà a radicarsi in un paese che in realtà non considera il suo, è un figlio che invece naturalmente si è perfettamente radicato e quindi vivono questo rapporto conflittuale. Alle 17 si consumerà nel piano superiore della biblioteca comunale, ovvero l'incontro con Maglio Castagna, autore del libro 116 film da vedere prima dei 16 anni. Ora, cara Francesca, non so quanti ne abbia visto tu prima dei 16 anni, io ricordo di averne visto sicuramente molto più di 116, ma forse non sono quelli che suggerisce Maglio Castagna, che lo ricordiamo, il regista ha prodotto anche alcuni corti, alcuni suoi film, scrittore, ma soprattutto lui è stato uno dei partecipanti alla crescita del Gifoni Film Festival, di cui è stato anche vice direttore artistico per un lungo periodo, fino al 2018. Siamo ben felici di averlo, più che il nostro ospite, diciamo ospite di una situazione in cui finalmente si è realizzato un momento di ibridazione tra due manifestazioni che spesso tendono un po' a sovrapporsi, ovvero il Carbonio Film Festival, in questo caso presenta How to Win the World, e il Festival Tutte Storie, giunto alla sedicesima edizione. Ebbene, siamo ben felici di poter proporre unitamente, insieme, questo momento, anziché sovrapporci e dei leaderci invece, lo organizziamo congiuntamente. A parlare con Maglio Castagna abbiamo peraltro invitato un'amica, un'insegnante, un'operatrice culturale nel settore dell'associazionismo cinematografico, ovvero Laura Stocchino, che sono sicura sarà un incontro molto molto interessante, così come è interessante il momento successivo che vivremo sempre nel piano superiore della Biblioteca Comunale, come ricordavi, ovvero Babel, il giorno del giudizio, un'esperienza straordinaria legata straordinariamente ai temi proposti dal Carbonio Film Festival in generale e anche da How to Win the World, ovvero tre richiedenti asilo in attesa di giudizio. Come sarà possibile vivere questa esperienza? Sarà possibile viverla attraverso le parole e le immagini realizzate dagli autori dei microfilm, che però sono contenuti all'interno di un'esperienza straordinariamente più immersiva e chiamamente interattiva, ovvero la realtà virtuale. Gran finale, ovviamente, come è stato detto, per questa seconda giornata del Carbonio Film Festival, presente a How to Win the World con l'ospite internazionale d'eccezione, ovvero Alexander Nanao. Siamo veramente felicissimi di avere questo così importante regista. La sua affermazione avviene chiaramente in Romania. Lui nasce a Bucarest, ma poi si trasferisce con la famiglia in Germania, a Berlino, dove ha la possibilità di studiare cinematografia. La storia di Collective, pluripremiato film, candidato, ma ben due sezioni differenti degli Oscar. È la prima volta che un film rumeno viene candidato agli Oscar, e in questo caso addirittura in due sezioni, quella per il miglior documentario e per il miglior film in lingua straniera. Un evento da non perdere, veramente anche perché sarà straordinario interagire con lui, poter parlare con lui di questa sua esperienza, di questa sua forza etica, morale, che lo ha condotto a raccontare un episodio, ahimè, tristemente famoso. Ma non vi svero niente perché chiaramente vi attendiamo tutti, per lo meno coloro che riuscivano ad entrare al Teatro Centrale di Carbonia, per la visione alle ore 21 di Collective e naturalmente la possibilità di parlare con un grande del cinema, Alexander Nanao, naturalmente intervistato per le traduzioni in lingua inglese, dal nostro direttore artistico Francesco Giavia.